ciao ragazzi bentrovati bentrovati sono lucio un saluto da fu18 italia oggi sono qui con le mie sculate della serata di ieri con l'uscita della seconda sbc tots garantito che ero indeciso se farla o meno in quanto una volta completati gli incontri principali all'ultimo pacchetto giocatori misti rari o meglio no forse era giocatori zinco premium tutti rari ho trovato il signorino roberto firmino 93 ciò significa che non ho fatto tempo di provarlo l'ho messo sul mercato a 694.000 e l'ho venduto fatto cassa così una sculata ogni tanto ci può stare non contento mi sono messo a fare le sbc premium della premier league dove dando via 11 giocatori rari di qualsiasi overhaul con intesa minimo 30 ricevevo un pacchetto premier league con 12 carte di cui tre rare ne ho fatte circa 89 e mi sono ritrovato tra tutti alcuni 84 alcuni 83 e hazard 91 detto ciò mi son detto vabbè ho crescito tots non scambiabile a sto punto facciamo ho fatto 30 facciamo 31 ho fatto la sfida tots garantito e come vedete vedere mi serviva proprio un difensore o un attaccante sinistro avendo già trovato sterling avendo cavani 92 davanti e del piero c o c diciamo che il reparto assieme a rabiottoz che ho trovato settimana scorsa assieme a gullit era completo mi mancava un attaccante sinistro quindi mi sarei accontentato di mané son o sani ebbene tra i tre è andata proprio al top perché ho trovato il grande è un min son coreano sonaldo ragazzi che giocatore che staz mamma mia oggi lo provo e poi magari vi faccio un video per per darvi le mie impressioni bene spero che abbiate scurato anche voi fatemi sapere qui nei commenti cosa avete trovato se siete contenti soddisfatti spero che non abbia trovato il papa il mitico portiere inglese poveraccio che si sa preso un sacco di insulti in ultimi giorni basta che non è inglese detto ciò grazie per avermi ascoltato per la visione iscrivetevi al canale non dimenticatevelo è fondamentale per la nostra crescita ricordatevi di mettere un like al video e seguiteci sulla nostra pagina facebook un saluto da food18italia e da lucio ciao